Questo calendario, il calendario 2024, vuole celebrare l'importanza e la bellezza di mettersi insieme, il valore della collaborazione, la volontà di unirsi sulla base di un rispetto reciproco, perché solo in questo modo si può creare qualcosa di più, qualcosa di grande, qualcosa di more than us. L'arte africana, e forse questo è il segreto profondo della sua bellezza, è un'arte che oggi sa coinvolgere, sa sorprendere, sa commuovere e comunque sa mettere in movimento. Con i tre talenti che abbiamo scelto, prima di tutto abbiamo registrato un'adesione entusiasta al progetto e all'idea di lavorare insieme, questo non è sempre facile e scontato. Tutti e tre si esprimono liberi da stereotipi e lontani dai canoni tradizionali. Tandigue, per esempio, ci ha colpito per la sua vitalità, per il suo desiderio, la sua fame di catturare la bellezza in tutte le sue forme e la capacità di far emergere le protagoniste femminili dei suoi scatti, mimetizzandoli e fondendoli con le fantasie dei tessuti comuni africani. Art Verrips è un fotografo regista, anche lui molto impegnato a mostrare nuovi codici di bellezza, ha un senso estetico molto pulito, molto nitido, una specie di romanticismo gioioso. Danilo Bassi è forse il talento più poliedrico, lui ci fa riflettere sui temi dell'attivismo, della politica e delle relazioni umane. Ogni progetto è risultato in una perfetta armonia di tante singole voci. Nessuno di noi può fare tutto da solo, ma insieme possiamo fare qualsiasi cosa, perché nessuno di noi è così intelligente come tutti noi messi insieme.